Il ciuccio del neonato ovviamente viene posizionato tra la lingua e il palato e non ne va abusato anche in quanto si utilizza durante la giornata. Perché? Perché il neonato impara ad eglutire ovviamente senza un ciuccio e mezzo e quando prendiamo un ciuccio o il dito in bocca e lo posizioniamo la lingua del bambino che dovrebbe spingere sul palato, quindi verso l'alto, per imparare una deglutizione corretta e stimolare l'ampliamento di tutta la parte, quindi di tutta la struttura della mascella in maniera corretta quindi favorire anche lo sviluppo dei denti e delle cavità nasali in maniera corretta, quando c'è il ciuccio la lingua non può spingere verso l'alto e cosa fa? spingere avanti, quindi manterremo una deglutizione disfunzionale e questo capita ovviamente quando poi il ciuccio viene utilizzato per tanti mesi, tanti anni e per troppo tempo quindi utilizzatelo sempre come pacifier eventualmente fino a sei mesi, diminuitene tanto l'utilizzo entro l'anno e cercate di dimenticarvene le linee guida secondo me, e questo è un parere personale, sono troppo morbide perché dicono il ciuccio va eliminato entro i due anni, sì ma non ti dicono quanto utilizzarlo e che danni può portare a lungo termine un utilizzo troppo e protratto nel tempo quindi